Con qualche punto in più e quindi giocando poi in casa, al meglio noi un po' tesi forse avremmo potuto fare meglio in certe situazioni, avremmo potuto sfruttare al meglio le occasioni che poi l'Ascoli ci ha dato in contropiede, è sempre a posto, è quello fisico che non lo metti a posto e mentale la squadra adesso ha recuperato tutto questo, fa delle prestazioni che mi piacciono quindi io sono contento per quello che ho visto Si aspettava un Ascoli più arrembante? No, perché sapevo che avrebbero cercato di aggredirci, l'abbiamo fatto anche noi e quindi la partita è stata una partita sotto questo aspetto abbastanza in pari diciamo sotto tutti i profili, anche le occasioni, loro hanno avuto le loro ma quello che è il mio rammarico è che delle volte le occasioni che all'avversario gliele diamo noi Sotto hanno vinto sia Ternana che Trapani, ora è una guerra per la salvezza No, noi pensiamo a noi stessi, adesso abbiamo la Ternana, i sconti diretti dobbiamo vincere, lo sappiamo perché se no lo sai benissimo che senza vincere quelli diventa più difficile però noi anche oggi, ed era un po' che non succedeva, anche oggi non abbiamo preso gol